Il Potenza apre ufficialmente la crisi del Teramo, una squadra che non gioca più, non vince più e adesso nemmeno più pareggia. Perde e basta. Anche con i Lucani va in scena un vero e proprio suicidio calcistico e la vittoria, Bari a parte, rimane un miraggio. Paci sceglie a sorpresa di Matteo a sinistra, mentre Birligea, come nelle previsioni, va a fare il terminale offensivo di un 4-2-3-1 con K. Bombaggi e Ilari alle sue spalle, mentre la coppia Romero Mazzeo con Ricci dietro e quella per l'esordio in rosso-blu di Fabio Gallo. Primo tempo decisamente negativo per la formazione di casa e dire che bastano 6 minuti al diavolo per sbloccare il match. La ripartenza di casa è fulminante, almeno quanto il diagonale di Bombaggi, che passa sotto le braccia di Marcone per la quinta rete stagionale del numero 10, bravo a rimediare ad un primo errore in fase di appoggio di un compagno di squadra. La gara di Birligea dura solamente 8 minuti, il centroavanti si fa male, al suo posto entra Pinsauti, nemmeno il tempo di assimilare il cambio forzato che il Potenza impatta. Al decimo, geniale, il velo di Ricci al limite dell'area che smarca Romero al suo interno, bruciato, Costa Ferrera e diagonale in fondo al sacco. 1-1 è gara che a livello di inerzia è totalmente ribaltata. Il rosso-blu prendono il comando delle operazioni a centrocampo, al Teramo servirebbero spunti come quello di K all'undicesimo, respinto da Marcone, o come la staffa ilato a minuto 22 di Santoro che chiama ancora la risposta l'estremo difensore Potentino. L'undici di Gallo sembra però interpretare meglio i primi 45 di gioco e al 32esimo mette la freccia. Panico pennella da sinistra, Romero di testa batte ancora Lewandowski per l'1-2. Doppietta per l'ex Feralpi Salò e Piacenza, davvero difficile da controllare per la rabberciata, retroguardia bianco-rossa. Ricci al 33esimo prova il Tris dalla distanza, Lewandowski c'è. Al 38esimo proprio il portiere polacco smanaccia male il traversone di Coce, libera la battuta Sandri, chiuso dal numero 1 bianco-rosso, meglio nella seconda circostanza. Al 43esimo il Potenza è davvero un passo dal 3-1, Mazzeo pennella da piazzato, Gigli si ritrova solo a colpire di testa sotto misura, ma angola male la traiettoria grazie a un diavolo che ha prima dell'intervallo solamente una chance con il destro telefonato di K. Ripresa che si apre con la percussione sul lato sinistro di Santoro, la rispinta di Marcone prima del fallo in attacco di Pinzauti che anticipa il problema fisico per Di Matteo che lascia il posto a Tentardini, mentre Chiare Matenga rileva uno spento Ilari. Proprio l'ex Novara al 66esimo va sul destro, la palla del pareggio ma la spreca malamente calciando alto sopra la traversa. Il Teramo ci prova ma il Potenza non soffre, Pinzauti al settantesimo gira centralmente il colpo di testa mentre il destro di Costa Ferreira a tre minuti più tardi vede i polpastrelli di Marcone a dirgli di no. A un quarto d'ora dal trepice fischio finale però il Potenza chiude la pratica, ripartenza veloce con Ricci che dribbla di Achite, Lewandowski si supera sul diagonale del trequartista e concede un corner su cui si esalta proprio Ricci che pareggia la rovesciata dell'andata di Pinzauti con una volée di rara bellezza dall'interno dell'area di rigore con la retroguardia di casa totalmente ferma e la rete che fa calare i titoli di coda su un match disastroso per un Teramo ormai in caduta libera 11 punti nelle ultime 14 gare sono una miseria, così anche i playoff sono a rischio e dire che un girone fa qualcuno aveva anche pensato di potersi giocare il campionato.